Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 14 novembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti dal 35 al 43. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono, passa Gesù il Nazareno. Allora gridò dicendo Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino gli domandò che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose, signore che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, abbi di nuovo la vista. La tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio e tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Il quadro che Luca ci disegna in questo testo è davvero commovente, denso di significati simbolici e anche esistenziali. Gesù si avvicinava a Gerico, una città posta a nord della Giudea, attraverso la quale si passava per andare verso Gerusalemme. Subito ci viene presentato un cieco seduto lungo la strada a mendicare, una persona anonima non vedente e non vista dai passanti, segno di ciò che ciascuno non vuole vedere. Il cieco non visto sente passare qualcuno e la gente gli annuncia, passa Gesù il Nazareno. Chiediamoci oggi, io, tu, quando non siamo visti, quando nessuno si accorge che esistiamo, siamo pronti, come questo cieco anonimo, a sentire l'annuncio che ci può salvare. Siamo pronti a cogliere il passaggio di Gesù. chiediamo al Signore che ci renda così sensibili al suo passaggio nella nostra vita. Preghiamo con le parole di Sant'Agostino che diceva Signore fa che non avvenga che tu passi e io non me ne accorga. Ecco preghiamo che questo non avvenga, preghiamo anche noi. Il cieco, vediamo in questo testo, che grida quando si accorge che Gesù passa. Alza la voce verso Gesù, lo chiama figlio di Davide, è un appellativo biblico che identifica proprio il Messia. E accade quindi qualcosa di grande. Il cieco non vede con gli occhi ma vede prima di tutti perché vede in Gesù il Messia. La folla, che prima aveva annunciato la verità al cieco, passa Gesù, ora che il cieco vede nella fede il Messia e si fa vedere da lui, lo rimprovera, lo rimprovera. Ecco allora che Gesù si ferma e chiede alla folla di portarlo vicino al cieco. Quante volte ci danno fastidio gli altri per un qualsiasi motivo, forse anche semplicemente solo per antipatia o per un qualsiasi motivo. Ecco questo episodio ci insegna che in quei momenti è bene ricordarci di questa folla che è chiamata dal Signore a fare qualcosa. Gesù chiede a questa folla qualcosa. Ti dà fastidio che il cieco grida? Portami da lui. Ti dà fastidio quella persona? Porta Gesù da lui. Chiedi a Gesù di andare a visitarlo, di guarirlo, di toccarlo. E poi la bellissima domanda che Gesù pone a questo cieco quando gli sta proprio vicino. Che cosa vuoi che io faccia per te? Ripetiamocela. Oggi il Signore ce lo chiede, lo chiede a ciascuno di noi, viene vicino a me, a te, ti fa questa domanda. Cosa vuoi che io faccia per te? Questo cosa significa? Significa cosa io desidero veramente. Chiediamocelo, diciamolo a Gesù. Lui ci ascolterà, ci guarirà come ha guarito proprio questo cieco. Da non vedente, questo cieco vede Gesù con gli occhi della fede. Da non visto diventa colui che viene presentato a Gesù per essere guarito. Chiediamo al Signore che anche per noi oggi lui possa passare e la sua luce riveli al nostro cuore la verità di ciò che più profondamente desideriamo per noi e per tutti coloro che portiamo nel cuore. Buona giornata.